Adan... ci sono quattro totem intorno ad Hunter's Grotto ah quelli in cui devi metterci l'eridio dentro eh devi pagare 90-99 di eridio per ogni totem penso quindi penso che tutti e quattro dobbiamo pagare non c'è problema Marin una qua da me è Saul si si è questo allora qua però 23 me ne fa mezzo ma come un errante il mostro se non sbaglio si dai mi devo fare la mia bella conquesta a piedi dai tiriamo sta cazzo di leva allora dopo tre ore che cerchiamo vada vada io non non vedo nessuno di io ma se ma se no perchè no ti prego sovr tutti tranne io muoio non sono solo 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 va ma come eccolo qua un parco un buon vada non vedo porco 2 togliamo 0 ormai non prende danni e se ne facciamo poco non li prende eh ci provo no no ma hanno già arrestato oh 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 ancora gli ho dato il colpo morto è morto cos'è che vi ha segato non è solo domanda ma io non lo vedo vado da soli non ho visto lei e io forza foro 4 tutti a casa un culto con me non mi faccio danno noi non scompaiono i numeri non compaiono i numeri ma si vede la vita si e si vedono per un attimo sono talmente lontani i numeri che non ci fai caso non è che se moriamo tutti dobbiamo ricominciare da capo non lo faccio non lo faccio e non lo faccio come scusa non lo faccio come ah ho detto che lo vuoi fare con il suo di non aver capito bene velofondi caputana merda schifosa oh ma spara tipo sfere spiritiche se terribile piccoli io non vedo una che gli va giù la vita ma guardate che dietro il titolo segato era vedete che gli scende la vita oh malissimo ovviamente non lo posso chiesto io provo a prendergli la faccia io vedo anche se gli troballi ma dovete dovete sparargli alle bolle che c'è intorno sia le bolle alle bolle oh sta facendo un nuovo attacco comunque stati gli molto lontano eh eh mi chiamo questo qua fa due passi e ci raggiunge ah è morto ma con le bolle che c'è parlando no di quelle che ha sul corpo eh non mi restate perchè tanto esco e rientro perchè veramente non vedo un cazzo no c'è la con me il bastardo no gli compaiono a babble e bolle si si gli si formano sul corpo ah è solo vulnerabile in quei punti molto più difficile vermivorosa molto più vermivorosa eh quello la cavalletta dice eh si si tre e due micchia questo è difficile da eh è più aggressivo ok ma chi è che c'è la lagro puttana madonna boh ma io che non ci sono dai dai sto io non non gli vedo nemmeno una bolla attualmente voi e neanche io no se ne è che bisogna aspettare che ah no ecco gli è ricresciuta sul fianco eccola mmm l'ha incassato eh è difficile colpirgliela porca troia nooo fermo taratatatatam devo tagliare la pistola è esplosiva finito il northlit ah tu lo puoi usare il northlit eh ce l'hai anche tu eh vabbè contro lui si ganga banana ganga banana su super tennis e sono quasi le due eh a sto punto mi sa che ergo proxy lo portiamo domani eh mi direi non mi può restare merda merda eh minchia devo arrivarci ma si recca no si recca la vita no 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 si recca la vita figurati minchia metta umano e metta umano ma è difficilissimo colpirelo col northlit eh lo so soprattutto quando fai i balletti io ci provo a sparare di coltato tu danni una pistola di torg e colpisce ovunque eh sto usando ok l'ho colpito bello ma lo senti il tamburo giapponese? piccolo tipo da scontro samurai nei film eh raga sto morendo io lo so troppo tardi troppo tardi non lo vedo ma nemmeno lo vedo in gioco siiii ma non mi vedi in gioco no non ti vedo no non uscire no 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 nooo qua eh arrivo provo io provo provo vedo che mi lagga anche il resto aia soul uff uff ma dove sei soul eh sono arrivando ci sono 6.000 metri da fare chilometri volevo dire sorry metri metri ciao a re metri aia ghiatelescopio quei brutoli di merda e lui ci credo ganga banana ganga banana ganga banana siiii sono morto sono morto sono morto oh 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 cazzo mi pisci in testa stronzo no pistola di moxi fai il tuo dovere addirittura eh per forza mi ricarico la vita almeno dai che piano 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 no no e mi chiedo cosa vuoi tutt'altro che è invincibile comunque qua dexydous il coglione che poi è dexydous difficile anche da pronunciare ole raga aiuto arrivo mi sento aiutarti ma no no arrivo cosa mi muoversi mi ha cagato in testa l'acido oh no ale no sono morto sono vivo sono morto siiii addio no non so non so non so non ci provo sono come ho già detto a 6.000 km danny 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 alla tua sinistra che furia moria no 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 è stato danny eh metà uomo è morto è metà uomo danny non ha apprezzato il mio dono no ho un dono e ve lo dono ho un dono ve lo dono te lo rifaccio vediamo se sto giro a prezzi vende metà uomo e metà uomo e metà uomo metà uomo è più bello ahahahah non te l'aspettavi eh super super oh basta pisciarmi in testa super uomo uomo metà uomo metà uomo metà uomo no ah sì e com'è nata la tua storia sono stato morsicato da un metà uomo e un metà umano a sua volta i piedi soldato minchia che difficile curarti niente dammi drop al nord il pettole un attimo me lo posso dare anch'io posso dare anch'io posso dare anch'io morto bella merda comunque giocare così cioè nemmeno lo vedo mi sciotta non vedo niente mi sciotta uomo 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 cosa fa le spiritiche micchia poi fa un danno d'acido assurdo però cioè le le palle che putta giù tolgono fatti io trovo io mi sono vicino a te ma secondo me è un po' inutile da usarli contro il nord non lo vedo dov'è è qua non lo vedo perfetto minchia manca poco maglioni no aia c'è 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 ma come vale fa le bolle oh eh le parla addosso a me madonna che bello il rumore del del the beacon la pistola di maxi madonna che bello che il rumore del metà uomo metà umana ahahah ahahah ma c'è un po' pericolo americano di torgo eh cosa ce l'hai il pompo quello con la stella americana eh quello arancione intendi? quello leggendario ok usa io col debito vai vai sprezzante del pericolo ma dai eh eh Danny mi sa che se ti resto ancora una volta la prossima muori definitivamente eh che non gli si ammossa la vita oh hai visto che roba brrrr e siamo in due a sparargli con quell'affare mi sono fatto male da solo con sto fucile e mi ha pure ucciso panculo stronzo oh che cazzo ha fatto? raga avrei bisogno di un giro a mano ma chi se ne frega crepa coglione va bene arrivo abbandono allora arrivo però continuo a conti via rimani nella rosa dei proiettili però cre 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 di colpito con un po' di questo accordo si si perchè mi hanno detto che cosa quando non è tutto muore io la vedo ferma la vita sua ma si si colpo io vi ho affetto che gli esplorare le bolle di posto. profoli infatti se qualcuno avesse un cerchino abbastanza potente è molto più facile ma tu hai il trespasser tipo ma vale ho l'imbarazzo della scelta io a cecchini se no che mi stavo sbizzarrendo ah usati quella rosa che ha droppato voracido si io l'ho usato cosa aspetti a farlo di nuovo? eeeeh lo erano lo erano oh oh stronzo metragliatrice finca pensa che non la vedo neanche la metragliatrice dopo che la lancia dopo un bel po' fa il gesto che la lancia hai il mio stesso problema di prima di riuscire a rientrare se non ho voglia ho già uscito e rientrato due volte e allora non ti lamentare marina ah eeeh 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 perfetto disuriti ai danni mi resti no c'era con me e' da fatto a soul no merda ah ormai c'è ogni 10 secondi quindi ma vedi è tutt'altro che è invincibile sto cosa è la merda stiamo andando due ore a ucciderlo ma per forza siamo stati nell'arena abbiamo già perso comunque fermo cazzo non riesco a prendergli le bolle col cecchino incredibile tranquillo faccio io Ale adesso mi si è ampliata la rosa dei proiettili occhio vi bombarda bombara bombarda dai esplodi si è fatta notte in gioco infatti chi è che gli sta lanciando le granate ehm ehm ho una disperazione muore 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 chi può lanciare un sasso no? lancia russi adesso e crepa basta girare no Danny no avverti la prossima volta però se riesce a nascondere il lato delle bolle a quattro persone contemporaneamente che hanno un movimento con un movimento dai esplodi bolla bastarda mi ha detto brucola raga muoio eh sono un po' è Luca quello più vicino a te ah la volontà cioè è veramente vicino Luca più che altro oh all'ultimo proprio bombarda ebbè ovvio è bollea olè eh è stato divertente finchè è durato metà uomo metà umano arrivo resta Luca primo no non attiratelo vi prego tutta la mia moglie di Luca no 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 queste no queste no merda aaaaaa forfa morto vero non lo non lo non lo tirare me ne devo andare merda montoro cosa punto torretta 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 in torre fa male se magari usassimo un'arma un po' più dritta per sparargli alle bolle io sto usando i cecchi così no parlavo parlavo con il mio cervello grande fattare il tipo adesso pensano ma l'ho detto ad alta voce ma hai visto ho fatto un attacco nuovo oh gli ho scoppiato con la tutta la panza ora ne ha due di là ragazze la terra guarda quanto tempo tocca l'altro c'è l'ultimo da esplodere ecco i pazzoide foto ma perché è finito l'effetto dell'acido niente 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 muoio sto giro no no non muori questo è il mio destino questo ma che cazzo dici ma minchia aspetta che mi si carica almeno sto scappando che cazzo fa no segue danni tant'è che anche questa volta ha coperto il lato con la bolla a me a me invece è bello esposto ah l'ha fatto apparire un'altra dall'altro lato si va bene te li prendi tipo tutti i colpi quando te li spara io non li vedo colpi che spara ad esempio allora di nuovo sprezzante per il pericolo metto un cecchino eh no ok come se non l'avessi mai fatto oh no no ora rimaniamo così per fortuna cazzo oh eredio oh riesco a colpirgliele pure che gli sparo non la colpisca ahia stronzio di merda ma come sono morto sono vivo sono morto mirate solamente a una sennò gli indeboliamo tutte non gli scoppiamo nessuno ma scusa ma scusa ma scusa ma scusa ma scusa signore coglione ero ingegnata quando ero bolla mille bolle 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 ma basta a morire beeeh mechia mechia ah ma mi ha fatto l'errante della palude a me con la normale che filo hai puttanza ma crepa coglione no glielo glielo ho dietro il culo glielo sto spappando rest please rest restate Danny io sono sacrificabile oh merda sopra mi ha sputtato in faccia e sono morto ma da neva nenon oh no no mechia no Gun non c'è da non è un amore foto foto a mette a parte quindi ragazzi tutto è possibile no 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 basta sognare uomo presa solida chilometri ma perché me le lanciano dal dietro mentre guarda luca me le lancia di dal dietro manco da dietro micchia te lo prenderò prima o poi con la nascia a perdere ma dato anche la sfida è morto era ora cosa troppato niente un gran cazzo mi sa ma sta gran ceppa per me la sfida non me l'ha data mi sa che hai dichiarato tu con l'ultimo colpo no no aspetta aspetta perchè vedo la roba che compare ora ma non me l'ha data nessuna sfida in teoria dovrebbe aver droppato qualcosa di rosa anche eh no no non essendo nell'arena è come esatto come come oh 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 terminus puttana terminus vabbè adesso che l'abbiamo battuto quindi ci possiamo buttare su wamba ma in realtà ora c'è un cuore ma invece c'è tentindurus bisogna schiacciare tendinus tendinus l'invincibile bisogna schiacciare 120 tasti per sparsi per il gioco e poi finire il gioco una volta per poi battere un mosto che non droppa niente e dura 8 ore di combattimento sogno grazie 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 a tutti.